Buonasera e grazie a tutti quanti di essere così numerosi per l'Avvocato Blengino che abbiamo chiamato come attrazione della serata. Sono tutti amici tuoi? Quasi tutti. No perché non credo siano amici miei, gli amici miei sono già venuti sabato non ne possono più delle cose del post probabilmente. Grazie mille. Allora io dico un po' di cose generali su cose spiegate bene su questo progetto e su questo numero e poi approfitterò dell'Avvocato Blengino per farci raccontare un po' più di... Ah pensavi di non fare niente tu? Di star seduto lì? Per farci raccontare diciamo delle cose un po' più direttamente competenti sul tema e sui temi in questione. Temi che come sapete diciamo sono di scottante attualità ma insomma sono sempre di scottante attualità. Tra l'altro la settimana scorsa no dieci giorni fa sono stato a fare due presentazioni in Veneto di questo numero di cose spiegate bene e volevo introdurlo argomentando sul fatto appunto su quanto siano attuali le necessità di informare e di spiegare le cose che riguardano la giustizia e sono stato straordinariamente facilitato dal fatto che la stampa aveva scusate se parlo della stampa in casa dell'impiccato ma l'aveva la stampa aveva appena titolato una prima pagina confondendo il 41 bis all'ergastolo stativo cosa che diciamo aveva fatto anche la presidente del consiglio Meloni in un'intervista e quindi questo diciamo ci aveva dato l'opportunità di spiegare ancora più fondatamente quanto sia rilevante cercare di capire meglio le cose della giustizia ma ci sono esempi praticamente continui e adesso ci arrivo. Cose spiegate bene è questa rivista libro del post diciamo che contiene due ambiguità e due equivoci di cui siamo prigionieri ma ci siamo messi noi in questo guaio il primo è non avere ancora capito se è una rivista o un libro è una rivista fatta a forma di libro oppure un libro che esce con una frequenza di rivista trimestrale una frequenza un po' discontinua all'inizio perché abbiamo fatto degli esperimenti e quest'anno appunto sarà più o meno trimestrale. L'altra ambiguità è aver avuto questa intuizione che ci sembrava buona e che funzionasse di chiamarlo cose spiegate bene o più familiarmente cose il che genera continuamente degli equivoci nella redazione del post tutte le volte che l'espressione cose potete immaginare diciamo è usata genericamente e non sappiamo capire se stiamo parlando del nostro cose o di altre cose. Tutto questo per mettervi a parte appunto di un po' di confusione nella definizione dell'oggetto però l'oggetto è nato saldando una serie di percorsi in realtà abbiamo cominciato a pensare di farlo ancora prima della pandemia. Uno di questi percorsi insieme al fatto che al post ci interessa e incuriosisce molto cercare di provare a applicare gli approcci del post, il post è fondamentalmente un sito di news però ci piace replicare appunto gli approcci e i criteri del post sull'informazione, sulla accuratezza dell'informazione, sulla chiarezza dell'informazione anche in ambiti e formati nuovi e quindi in eventi pubblici e quindi sui podcast e potenzialmente aprendo un locale del post che è la mia prossima ambizione e seriamente e però appunto a un certo punto anche mettendo in conto di provare a fare dei prodotti e dei formati di carta. Cosa che ci interessa e ci interessava non tanto per riflessioni particolari sul rapporto tra il digitale e la carta, qualcuno ci ha detto dopo dieci anni di digitale avete deciso di tornare alla carta, qualcuno ci ha detto dopo dieci anni di digitale avete deciso di approdare alla carta. In realtà il post è fatto appunto con un po' di criteri e idee legate all'informazione che si dà il caso che siano stati declinati inizialmente online perché appunto internet e il digitale hanno dato delle opportunità straordinarie di appunto fare dei prodotti di informazione con dei costi e delle risorse molto più limitate di quelle che erano necessarie un tempo ma noi quello a cui teniamo poi sono quei criteri diciamo dovunque si applichino di appunto accuratezza dell'informazione, sua affidabilità, sua chiarezza, spiegare le cose bene, contemporaneità appunto delle cose che raccontiamo e quindi fare anche un oggetto di carta che ci permettesse di raggiungere attraverso le librerie dove viene venduto dei pubblici nuovi e persone che magari non conoscono il post cosa che ci è successa molto negli ultimi anni appunto di raggiungere pubblici nuovi ci è sembrata un'idea interessante poi avevamo richiesta invece dai nostri lettori più fedeli di appunto fare anche alcuni molti interessati a avere dei supporti e dei prodotti di carta a fare un esperimento di questo genere e poi ci siamo con grande fortuna imbattuti nel senso che ci abbiamo fatto amicizia per un po' di occasioni comuni e di eventi pubblici con le persone della casa editrice per Borea che forse conoscerete probabilmente conoscerete appunto una casa editrice ufficialmente piccola ma ormai diciamo non così piccola anzi di notevoli successi che si è occupata soprattutto di letteratura nord europea molto a lungo ma a un certo punto e ci eravamo già conosciuti e quindi abbiamo molto seguito e condiviso questo loro progetto avevano fatto un progetto di una rivista dedicata ai luoghi del mondo che si chiama Passenger forse l'avrete vista e progetto esperimento appunto che avevamo molto condiviso con loro per curiosità e per amicizia e che è riuscito molto bene si è riuscito diciamo nel risultato nella qualità appunto di quella rivista si è riuscito in termini di appunto risultati di vendite di pubblico di apprezzamenti eccetera e quindi quando noi siamo approdati appunto all'idea di fare qualcosa di carta ne abbiamo parlato con loro che erano forti di questi risultati di questo piccolo successo e abbiamo fatto benissimo nel senso che questo oggetto la sua qualità e anche il suo apprezzamento che ha avuto in questi due anni si deve tantissimo non solo ai suoi contenuti che sono contenuti del post in parte editi in buona parte nuovi ma si deve anche alla capacità appunto dell'editore Iperborea dello studio Tomo Tomo che ha progettato il design e la grafica di questo oggetto di questa rivista appunto facendolo diventare una cosa che non è soltanto ma insomma non siamo noi a dirlo a doverlo dire una raccolta di contenuti e informazioni ma decisamente un bel prodotto se mi perdonate questa espressione diciamo che tutte le volte che uso mi ricordo c'è un aneddoto ci siamo occupati nel primo numero di cose spiegate bene di libri ed editoria su cui noi siamo sempre molto curiosi e curiosi di raccontare i libri e l'editoria per come funziona nei suoi meccanismi più che per naturalmente invece quello che è la cosa più importante cioè il contenuto dei libri ma che è molto raccontato e allora tutte le volte che dico prodotto mi ricordo un aneddoto di un nuovo amministratore delegato di una grandissima casa editrice italiana che arrivò a dirigere quella casa editrice dopo essere stato preceduto da un una persona di straordinaria cultura straordinaria rilevanza nel mondo dell'editoria italiana invece il nuovo amministratore delegato arrivava più da un lavoro di marketing e più di management e nel suo primo discorso disse che i libri sono prodotti e ci furono alcuni suicidi dal quarto piano di questa casa editrice perché appunto l'idea di associare il libro a un'idea di prodotto è sempre vista con un po' di allarme però invece noi pensiamo sicuramente che questo al di là del suo contenuto sia un prodotto molto soddisfacente e il merito va in gran parte alle persone di perborea e alle persone di tomo tomo questo è il quarto numero che facciamo ne abbiamo fatto uno sui libri appunto sul mondo dell'editoria su come si fanno i libri ne abbiamo fatto uno sulle questioni di genere cosiddette ne abbiamo fatto uno sulle droghe e questo è il quarto che è uscito prima di natale a marzo uscirà il prossimo perché l'abbiamo fatto intorno ai temi della giustizia con questo titolo è giustizia giustizia per tutti che quando l'ho pensato essendo io una persona di 58 anni il mio riferimento era un film americano molto figo degli anni 80 intorno a questioni di avvocati e dilemmi diciamo avvocati giornalisti e giudici in un film americano e poi quando siamo usciti con questo titolo giustizia per tutti abbiamo ricevuto un sacco di complimenti dai fan dei metallica perché c'è un disco dei metallica che si chiama allo stesso modo in realtà tutti quanti citano un passaggio di una appunto una dichiarazione è una formulazione tradizionale americana però per evitare l'impostura diciamo noi abbiamo confessato che non ci riferiamo ai metallica ma saremo naturalmente lieti invece se ci sono apprezzamenti in questo senso ci siamo occupati di giustizia beh diciamo le ragioni sono abbastanza ovvie immediate e catalogabili dentro due macro categorie uno è che con le questioni della giustizia volenti o nolenti moltissimi di noi diciamo hanno a che fare prima o poi nella vita direttamente o indirettamente attraverso persone che conoscono attraverso questioni che possono essere gravi e preoccupanti o questioni più leggere l'altra è che tutti noi sul piano delle cose che al posto interessano di più cioè l'informazione sull'attualità e sulla comprensione del mondo abbiamo a che fare con le cose della giustizia quotidianamente nel senso che non passa giorno che non solo ci siano dibattiti intorno alle cose della giustizia ma che una buona parte delle notizie a cui siamo soggetti a cui ci interessiamo e che seguiamo hanno poi delle implicazioni legate ai meccanismi e funzionamenti della giustizia che siano casi di cronaca nera o che siano casi di politica o che siano casi di molte altre questioni e su questo la nostra impressione era che ed è tuttora che i mezzi di informazione non facciano un gran lavoro io l'ho scritto più esplicitamente in una cosa che ho scritto ieri devo dire mi è uscita anche un po un po un po seccata ecco forse sul tono potevo essere un po più moderato intorno esattamente al 41 bis il 41 bis che spieghiamo a un certo punto dentro cose spiegate bene in realtà dentro cose spiegate bene a pagina 207 spieghiamo l'ergastolo stativo e diciamo il dibattito sull'ergastolo è ancora attuale soprattutto rispetto al cosiddetto ergastolo stativo che riguarda le persone condannate per uno o più reati previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario l'articolo 4 bis parentesi da non confondersi con il 41 bis vedi pagina 210 e quando abbiamo riletto le bozze di di questo numero di cose spiegate bene e siamo sono arrivato a questa parentesi ho detto vabbè sarà forse superfluo dire ma è che la gente confonderà il 4 bis il 41 bis però diciamo come vi ho detto invece è stato previdente quel quell'inciso e quella parentesi e poi appunto due pagine dopo spieghiamo cos'è il 41 bis il 41 bis come sapete è in questi giorni diciamo all'ordine del giorno è molto discusso se ne parla tantissimo ed è impressionante non solo la quantità di persone diciamo normali o comuni che si trovano a seguire a leggere delle questioni che riguardano il 41 bis in particolare riguardo a alfredo cospito come sapete che non hanno assolutamente capito di che cosa si sta parlando la cosa ulteriormente impressionante è il limitatissimo sforzo che fanno i mezzi di informazione per spiegare tutto questo e nella cosa che ho scritto ieri cercavo di spiegare questo il 41 bis così come l'ergastolo stativo non sono delle aggravanti della pena legate all'efferatezza o la gravità del reato per cui le persone sono state condannate sono discutibilissime peraltro e come sapete molto discusse ma delle norme introdotte per limitare dei possibili pericoli attuali legati alle persone di condannate di cui parliamo il 41 bis non serve a appunto fare in modo che le persone condannate per delle cose molto più gravi abbiano degli aggravamenti della loro pena legato a tutto questo serve a evitare serve nelle intenzioni diciamo di chi l'ha introdotto a evitare che i condannati per determinati reati possano avere delle comunicazioni all'esterno che li rendano ulteriormente pericolosi malgrado siano già condannati e già in carcere questo non ha niente a che fare con la formulazione che diciamo si legge molto in giro si sente in giro no per cui che si tratti di cospito che si tratti di capi mafiosi se lo meritano no perché quello che si meritano queste persone ammesso che sia è la pena che hanno ricevuto non è appunto un ulteriore appesantimento di quella pena è le ragioni del 41 bis sono delle ragioni strumentali evitare che ci siano pericoli ulteriori che ci potrebbero essere tutto da valutare da discutere ma è quello da valutare da discutere se questi pericoli esistono davvero e se le imposizioni che vengono fatte le limitazioni eccezionali e straordinarie che vengono fatte che vengono imposte a questi detenuti stiano dentro come si dice il dettato costituzionale o l'idea appunto di diritti delle persone che condividiamo il problema non è soltanto l'ignoranza dell'uomo della strada mettiamola così rispetto a tutto questo il problema che queste su questa ignoranza i mezzi di informazione fanno pochissimo anzi diciamo tendono molto a incentivarla tendono molto a riprodurre perpetuare appunto quest'idea che il carcere duro sia una cosa attribuita a chi si merita il carcere duro o più duro naturalmente non stiamo parlando ovviamente di persone che non hanno delle gravissime responsabilità sono state addirittura condannate ma le due cose non sono assolutamente relazione quindi il criterio la motivazione se lo merita e se l'è meritato non ha niente a che fare perché è ulteriormente interessante scusate se approfitto per condividere con voi questa riflessione perché è ulteriormente interessante che invece questo tipo di motivazione venga vissuta dalla gran parte delle persone e perpetuata da gran parte dei mezzi di informazione perché sta dentro una reazione completamente emotiva che noi e questi tempi suggeriscono nei confronti delle cose nessuno prende in considerazione appunto la fondatezza e l'utilità per il bene della comunità di queste misure cioè un approccio razionale se l'applicazione di queste misure effettivamente tutto considerato è anche quello che significano in termini di deroghe ai principi ai valori ai diritti che condividiamo portino del bene alla comunità l'approccio generale e l'approccio generale anche rappresentato dalla gran parte dei mezzi di informazione è appunto un approccio continuamente emotivo continuamente di sfogo continuamente di indignazione continuamente personalizzato idem per l'ergastolo stativo nessuno spiega appunto o discute dell'ergastolo stativo nei termini uno della sua eventuale efficacia due della appunto contraddizione che c'è rispetto a quello che la costituzione dice rispetto alle pene quello che abbiamo convenuto rispetto all'ergastolo se ne discute continuamente appunto in relazione alimentando l'indignazione nei confronti delle persone che ne sono vittime oppure si rischia di fare anche il contrario io ho avuto una conversazione oggi con un collaboratore del post che proponeva di raccontare più estesamente più approfonditamente la storia di alfredo cospito e delle cose che ha fatto e del suo percorso eccetera che sicuramente ha una storia giornalisticamente potenzialmente interessante però penso che sia molto sbagliato sia molto pericoloso personalizzare anche in un altro senso la discussione del 41b sia personalizzarla nel appunto spostare sul mostro la questione piuttosto che non appunto sul sul diritto e tutto quello che abbiamo detto sia personalizzarla umanizzando alfredo cospito poi ognuno di noi diciamo può fare tutte le riflessioni del caso ma non mi sembra proprio il caso di discutere di alfredo cospito di chi è e di che cosa ha fatto di che cosa non ha fatto mi sembra il caso di discutere se diciamo la nostra società la nostra civiltà vuole applicare e ha bisogno di applicare delle misure appunto emergenziali e così eccezionali insomma sappiamo sia le necessità chi le sostiene sia i pericoli e le conseguenze delle misure emergenziali va bene ho fatto diciamo un po di esempi di attualità questo numero di cose spiegate bene come gli altri numeri è fatto con un approccio appunto tipico del post da una parte di come sul 41 bis su moltissime altre cose sulla prescrizione su moltissime altre cose che conoscete perché sono continuamente nel dibattito un lavoro di tentativo di spiegato bene però intervallandolo poi a storie storie di casi singolari storie di processi storie di avvocati e vicende appunto che aiutano a capire meccanismi e funzionamenti della giustizia e poi ulteriormente intervallando tutto questo in questo appunto è anche coinvolto direttamente Carlo poi è stato coinvolto dietro le quinte molto come consulenza di tutto il testo alternandolo a gli interventi di alcuni autori ospiti esterni che un po mediassero quell'atteggiamento così diciamo un po di anonima spiegazione e rigidità anonima appunto dell'approccio del post anche con dei racconti più personali e delle valutazioni e delle opinioni più personali. In tutto questo la nostra idea era appunto che questo fosse un numero di cose spiegate bene dedicato particolarmente a tutti noi diciamo adesso non so quanti di voi siano coinvolti professionalmente nelle cose della giustizia ma a tutti noi profani e che abbiamo evidente bisogno di capire guardate la maggior parte degli italiani sono abbastanza convinto non ha chiaro nemmeno la successione dei gradi di giudizio nei sistemi processuali italiani appunto i processi di primo grado i processi d'appello la cassazione se voi dite cosa che nella pratica diciamo non avviene ma nella teoria è potenzialmente può avvenire se voi dite alla maggior parte delle persone sapete che un processo può continuare all'infinito in teoria io una volta dicevo che era come i match ball del tennis che bisogna vincere due 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 no non due su tre bisogna vincere due consecutivi ecco bisogna appunto vincere consecutivamente un appello e una corte di cassazione se no in teoria può andare avanti all'infinito naturalmente diciamo è una cosa in teoria però è una cosa in teoria fondata le persone appunto si meravigliano perché appunto non si immagina nemmeno questa cosa elementare appunto ovvero la successione dei gradi di giudizio e quello che in realtà abbiamo scoperto in questi due mesi da che cosa spiegate bene è uscito è che c'è stato anche un grande interesse e curiosità appunto le presentazioni di cui vi parlavo che ho fatto in veneto due settimane fa le presentazioni fatte molto generosamente gentilmente con una grande partecipazione e coinvolgimento da parte degli ordini degli avvocati e delle e delle camere penali dei appunto le persone che lavorano intorno alla giustizia quindi appunto la prima cosa che chiederei a carlo poi può raccontare qualunque vuole di qualunque cosa vuole di questa sua esperienza di preziosissimo consulente co curatore di questo numero di cose spiegate bene è appunto qual è il rapporto poi di chi lavora con la giustizia che noi abbiamo immaginato appunto estraneo parallelo e molto più professionale con le questioni della divulgazione dell'informazione delle persone compresi eventualmente i clienti con cui si ha a che fare sui meccanismi della giustizia non ho pensato di offrire cose ai clienti così si preparano quando arrivano c'è anche questa cosa potrei farlo no io devo dire che quando luca mi ha proposto di di dargli una mano per per evitare di scrivere stupidaggini ed era difficile però perché comunque il diritto è fatto di parentesi eccezioni trovi una regola e c'è subito dice no però guarda che poi non è così perché poi c'è e poi di linguaggi cioè il nostro linguaggio di giuristi è veramente diverso io mi sono reso conto abbiamo avuto tutta una serie di di io ho ricordo chiarissimo a un certo punto stavamo discutendo di come fanno l'articolo come fanno i giornali ad avere gli atti processuali e le intercettazioni e e quindi si discuteva del segreto quando è che finisce il segreto non il segreto è un certo punto io scrivo non so se direttamente nel pezzo di con la materiale apprensione dell'atto non fa cessare il segreto e luca mi risponde dice quando letto la materiale apprensione dell'atto mi sono immaginato un atto molto stressato abbiamo stressato l'atto è andato in apprensione e e poi mi scriveva dice scrivilo come vuoi non voglio più sapere perché era stavamo andando avanti con questa cosa dei termini e quindi mi sono reso conto che effettivamente tutta una serie di terminologie che per chi è l'avvocato il giudice eccetera eccetera sono sono quelle non sono quelle per le persone che non frequentano quell'ambiente però il mio timore quando lui mi chiese questa cosa di come abbiamo cosa facciamo una sorta di manuale di procedura per dammi cioè una roba semplificata un bignami eccetera cioè temevo invece poi quando ho iniziato a leggere i pezzi che lui mi mandava eccetera eccetera e soprattutto alla fine quando ho visto il libro perché poi appunto noi lo leggevamo insieme a Filippo Perlo e cercavamo di correggere o di dire o di puntualizzare le cose che potevano essere in qualche modo poi oggetto del classico no ma avete scritto questo invece infatti ho avuto il timore che quando è uscito ho detto oddio adesso ci sarà di sicuro qualche collega che dice no ma no la prescrizione però nel caso dico sì vabbè però dovevamo semplificare e quando ho visto il libro devo dire l'ho poi letto nel senso che ci sono tutta una serie di divisioni sul carcere sulle giurie popolari che io avvocato da 30 anni non mi ero mai posto in quei termini non non le avevo visti cioè lo sguardo del giornalista che fa in qualche modo cronaca di quello che è il mondo della della giustizia per me è stato stupefacente cioè il pezzo sul sulle donne della giudecca noi avevamo avuto una cliente che era finita lì perché aveva ammazzato il marito ma ed era finita nel carcere della giudecca e ricordo che il mio vecchio domino sotter catalano era andato a trovarle mi aveva raccontato di questo carcere solo femminile di venezia e lì c'è un bel pezzo nel nel libro che che mi ha fatto rivivere che mi ha fatto vedere come effettivamente la giustizia vista da fuori sia diversa che non vista tutti i giorni nelle aule cioè perdiamo un po' noi gli avvocati e credo anche i magistrati c'è qualche magistrato quindi non vorrei però è un po' come quando io penso in fondo 15 giorni di galera dovrebbero farli fare a tutti i magistrati così come tirocinio dice ti piglio e dice prima di prendere funzioni però 15 giorni di galera te li fai non a scopo punitivo ma perché effettivamente educativo e forse anche gli avvocati dovrebbero ogni tanto fare un po' di galera perché tutto sommato anche noi vediamo il come si vive in carcere che è uno degli articoli del libro pur frequentando io un po' le carceri io una sorella medico e ricordo che mio padre diceva sempre io ho un figlio in galera e l'altro in ospedale e ovviamente quello in galera era meno apprezzato però adesso ci vado più raramente però noi vediamo sempre un pezzo del carcere cioè noi vediamo ed è faticosissimo io tutte le volte che vado in carcere faccio veramente fatica ad entrare in carcere tant'è che alla fine poi potendo faccio più pochissimo carcerario che invece è il penale più bello per i difensori è quello più ricco più umano più interessante e però oltre quella sala colloqui quelle sale colloqui dei vari carceri italiani io non sono mai andato sono andato una volta perché la camera penale ci ha fatto entrare e ho visto un mondo che poi è raccontato in cose molto bene e che mi sono riletto e che ho pensato ecco guarda io sono 30 anni che faccio l'avvocato e imparo da cose spiegate bene del posto quindi questo devo dare atto questa visione c'è cioè il rischio di rimanere poi nell'ipertecnicismo e nella quotidianità della professione è stato utile che sia rotto e capisco perché molti le camere penali o comunque molti addetti ai lavori possano apprezzare un libro di questo genere guarda ci sono due cose che aggiungo poi ti chiedo di raccontarci delle altre cose perché hai tirato in ballo due temi che sono stati molto importanti nell'elaborazione di questo numero di cose spiegate bene e uno in particolare è molto importante poi in elaborazione intorno alla giustizia e pensieri che facciamo da un sacco di tempo uno è quello che riguarda il linguaggio noi da 13 anni col post facciamo con una ostinazione delle volte addirittura un po' capricciosa un lavoro di semplificazione del linguaggio o meglio semplificazione o normalizzazione del linguaggio una delle cose che ci siamo detti all'inizio del post su cui volevamo intervenire di più appunto era la questione della chiarezza delle cose che raccontavamo chiarezza che si applica su due fronti sia sul contenuto cercare di mettere sempre le cose nel contesto cercare di non dare niente per scontato cercare di immaginare appunto che molte cose vanno spiegate è una della forma cioè cercare di usare un linguaggio che sia il più adeguato ed efficace rispetto alle cose che vogliamo raccontare dentro questo adeguato ed efficace c'è anche che sia familiare che non suoni artificioso che non sia quella cosa che diciamo è stata definita a volte come giornalese a volte come lingua di plastica quella cosa che dice al vaglio degli inquirenti su cui ci sono moltissimi altri esempi ma questo è il più ovvio e palese in questione di giustizia quando siamo arrivati a affrontare i temi e racconti e le spiegazioni di questo numero sulla giustizia ci siamo resi conto che ci trovavamo nel caso più grosso di una contraddizione di un limite su questo tipo di lavoro perché naturalmente le cose che vi ho detto hanno senso per un approccio di divulgazione e informazione come quello che facciamo noi ma i gerghi cosiddetti non sono una cosa pretestuosa sono una cosa essenziale negli ambiti in cui vengono usati i gerghi e i linguaggi specialistici servono perché ci sono degli ambiti appunto molto più specialistici in cui le cose devono essere definite con maggiori esattezze e quindi se volete facciamo l'esempio più banale e ovvio di tutti ma appunto di fantozze sulla barca a vela e di tutte quelle espressioni appunto su cui fantozzi è in difficoltà oppure con cui tutti noi se non siete dei grandi velisti siamo in difficoltà le volte che ci portano su una barca ci dicono delle cose che noi diremmo molto più semplicemente fai un nodo, no? invece che tutte le possibilità di stringere eccetera eccetera ci sono dei contesti come quello della barca a vela in cui le cose vanno definite con molta maggiore esattezza e i gerghi hanno senso quei gerghi lì nel momento in cui si fa un lavoro di divulgazione più largo devono essere abbandonati e trascurati e quello è un pezzo del lavoro dei giornalisti se lo sanno fare bene cosa succede? che quando si va a occuparsi di cose della delicatezza e della complessità e della varietà appunto dei contesti in cui viene applicata la giustizia le sfumature diventano rilevantissime le eccezioni diventano rilevantissime quella cosa per cui ho continuamente bisogno dell'avvocato Blengino e continuamente non sopporto l'avvocato Blengino è appunto la sua attitudine a dirmi sì però non è sempre così no? e ha ragione naturalmente dopodiché noi appunto ci troviamo in questa condizione che non è che possiamo sempre dire che non è sempre così bisogna in qualche modo alcune cose generalizzarle mettendo in conto che ci possano essere delle eccezioni avevo, ho tutt'ora ma adesso diciamo è diventato molto più grande ma mio figlio quando era un ragazzino aveva delle inclinazioni polemiche da campionato che ancora un po' aveva un'obiezione definitiva rispetto a qualunque discussione in cui a un certo punto i suoi argomenti polemici pretestuosi venivano messi all'angolo che è e se cade un meteorite e se cade un meteorite salta tutto quanto dentro le cose della giustizia o le complessità delle cose della giustizia l'eventualità meteorite è continuamente contemplata o altre eventualità eccezionali ed è giusto che sia così perché appunto la varietà, le sfumature dei contesti sappiamo benissimo qual è il grado di interpretazione e arbitrarietà che viene la giustizia non è una cosa esatta è una convenzione è una convenzione che ha a sua volta uno spazio enorme poi di interpretazione umana e dei singoli in questo c'è un parallelismo interessante con una cosa che conosciamo di più perché siamo più abituati a sentirlo dire cioè che la democrazia poi benché diciamo pensiamo che sia un principio condiviso definitivo che fa funzionare bene i nostri sistemi però poi dipende tantissimo dalle regole delle convenzioni a cominciare dal sistema elettorale che le applichiamo noi pensiamo appunto che le democrazie ottengano un risultato che sia il risultato unico e definitivo è legato al fatto che siamo una democrazia al volere del popolo ma sappiamo benissimo che basta cambiare una legge elettorale e quelle cose lì funzionano diversamente la giustizia è anche molto questo noi raggiungiamo appunto dei risultati che chiamiamo giustizia ma legati tantissimo a tutta una serie di convenzioni che non sono universali tant'è vero che ogni paese ogni paese anche democratico ha convenzioni diverse e risultati molto diversi sulle cose della giustizia in questo tra l'altro appunto c'è un altro equivoco io lo scrivo nella introduzione a questo numero di cose spiegate bene di cui sono responsabile che alla fine chiamiamo giustizia quando diciamo l'amministrazione della giustizia del funzionamento della giustizia è una cosa che è una specie di rimedio alle ingiustizie non è la giustizia il sistema che chiamiamo della giustizia non ottiene la giustizia anzi interviene quando proprio la giustizia non c'è e non c'è stata e cerca di mettere delle pezze in questo appunto ulteriormente ci dice quanto non ci sia un sistema universale un obiettivo universale e perfettibile stiamo appunto cercando di mettere delle pezze cercando di rimediare delle cose e questo è molto importante per l'altro argomento e questione che ha citato Carlo e che io penso sia rilevantissimo e troppo poco considerato e discusso che è quello delle pene del carcere perché dico che ha a che fare? perché ha a che fare con un'idea straordinariamente frustrante ma straordinariamente reale che il male nel mondo c'è e che noi non raggiungeremo mai una situazione, un contesto per cui non abbiamo bisogno di mettere delle pezze alle ingiustizie non abbiamo bisogno di emettere delle pene non abbiamo bisogno di utilizzare le carceri però le carceri di cui si dice spesso che sono diciamo uno spazio è un'idea di rimozione di un problema ma non solo lo sono concretamente ma lo sono anche come concetto le nostre società che hanno avuto dei progressi civili straordinari nel corso dei secoli non hanno fatto nessun progresso e non hanno voluto farlo nelle riflessioni sul sistema delle pene e sulla detenzione e sulla reclusione delle persone guardate adesso dico una cosa che è contemporaneamente ovvia e a cui probabilmente la maggior parte di voi non ha mai messo la testa perché appunto le nostre società e civiltà rimuovono proprio di mettere la testa su questa cosa per la stragrande maggioranza delle persone che sono in carcere il carcere non ha senso anzi diciamo lo dico con le parole della direttrice del carcere della Dozza di Bologna con cui ho fatto una presentazione un mese fa il carcere è criminogeno il carcere genera maggiore pericolo per la comunità le persone che stanno in carcere appunto a meno che non gli applichino il 41 bis e l'ergastolo stativo quando escono sono più pericolose mediamente di quando ci sono entrate il carcere ha un'efficacia per il bene della comunità legata soltanto al fatto che le persone che vengono messe in carcere una quota minore delle persone che vengono messe in carcere sarebbero effettivamente pericolose per la comunità se fossero libere questa è diciamo l'idea originaria del carcere di chi di far corrispondere alla pena una reclusione delle persone non esiste nessuna relazione naturale fra la pena e la reclusione ma cosa è successo nella storia del mondo che siccome appunto per alcune persone condannate o ritenute appunto da condannare la soluzione pratica migliore era chiuderle per evitare che non cessero abbiamo applicato quello stesso criterio a tutte le persone che volevamo e potevamo condannare per tutt'altre ragioni o con tutt'altri obiettivi e abbiamo deciso di rimuovere l'idea che ci potessero essere soluzioni diciamo più promettenti più efficaci più proficue per il bene delle comunità e continuiamo a farlo continuiamo a farlo con risultati addirittura controproducenti e senza perché naturalmente non è una cosa facile non sto dicendo smettiamo di mettere le persone in carcere l'abbiamo risolta diciamo c'è una però il punto è che non esiste proprio la riflessione e il dibattito esiste appunto molto minoritario e in uno spazio minoritario degli addetti ai lavori intorno a tutto questo il risultato è che anche in questo alle persone i mezzi di informazione trasmettono delle informazioni e delle idee degli approcci completamente irragionevoli la maggior parte degli italiani la presunzione di innocenza proprio non sa cosa sia non la prende in considerazione al di là delle reazioni normali e umane e spontanee che si possono avere nei confronti delle persone che si dicono accusate di qualcosa l'Italia è un paese in cui le persone ma i giornali stessi si meravigliano che le persone in attesa di giudizio accusate di qualcosa siano libere una delle questioni diciamo più grosse che è emersa di recente intorno alla riforma Cartabia la questione che c'è naturalmente sulla questione della necessità della querela rispetto all'arresto è stata raccontata da alcuni giornali diciamo particolarmente strumentalmente in questo paese con esempi che avevano questo titolo ruba una macchina ed è subito libero deve essere libero uno che ha rubato una macchina non ci deve andare in carcere ci deve andare in carcere quando è stato condannato con sentenza definitiva al terzo grado di giudizio o diciamo con gli altri iter previsti dalla legge rispetto alla chiusura dei casi ma la carcerazione preventiva deve essere un'eccezione ma non solo deve essere un'eccezione nella pratica deve essere un'eccezione nella consapevolezza delle persone se noi riteniamo appunto che le persone siano innocenti fino a sentenza definitiva come sosteniamo che debba essere ma persino casi e sapete diciamo quanto i media hanno marciato su tutto questo casi in cui non hanno rubato una macchina ma le persone sono accusate anche di cose molto più gravi ma in cui non sussista il rischio della reiterazione del reato diciamo come dice o diceva la legge non so più appunto lì che sviluppo c'è stato e a che punto sia il rischio dell'inquinamento delle prove o il rischio di fuga una persona che abbia fatto anche le cose peggiori e più diciamo insopportabili e violente e dolorose nei confronti di altri messo in carcere prima del processo a parte che non c'è nessuna ragione ma poi è una totale violazione della presunzione di innocenza però tutto questo non c'è nelle riflessioni generali viene raccontata un'altra cosa i giornali titolano vergogna è già libero deve essere libero oppure per fare un altro esempio concreto di questa bizzarria e contraddizione quando si è parlato purtroppo non se ne parla da un pezzo ma quando si è parlato di indulto amnistia nelle discussioni che sono state in questo paese un'obiezione diciamo dei contrari era ma così tornano liberi un sacco di criminali liberi di delinquere ancora questo argomento era così ridicolo che basta opporgli diciamo il contro argomento per cui allora però diamo l'ergastolo a tutti perché le persone che l'indulto libera oggi rispetto a fra tre anni saranno fuori fra tre anni e mi dovete spiegare qual è la loro maggiore pericolosità oggi di quella che sarà fra tre anni quindi i casi sono due diciamo o definiamo come criterio che non debbano uscire perché sono pericolose e allora non le facciamo uscire mai anche se hanno avuto una condanna a sei anni oppure non esiste l'argomento appunto ma se liberiamo facciamo l'indulto adesso mandiamo un sacco di criminali per le strade quei criminali saranno normalmente per le strade diciamo senza che il loro percorso di riabilitazione e minore pericolosità sia avvenuto naturalmente diciamo Carlo può riprendere qualunque di queste cose ma adesso vorrei anche un momento alleggerire un po' perché ci sono due cose che in realtà si sovrappongono su cui in questi anni con Carlo abbiamo parlato spessissimo e che io trovo molto interessanti e su cui lui ha sia esperienze che riflessioni intorno alle questioni della giustizia che sono e che si accavallano una è come le trasformazioni digitali e le rivoluzioni e le innovazioni tecnologiche di questi decenni hanno oltre che avere sparigliato e incasinato una serie di aspetti delle nostre società sparigliato e incasinato la gestione e il funzionamento della giustizia e sia nel merito ci sono appunto e per esempio le intercettazioni telefoniche sono un pezzo di tutto questo guardate le intercettazioni telefoniche se ne parla molto di più oggi perché ci sono tecnologie che le permettono e le rendono molto più appunto usate e molto anche più efficaci naturalmente nell'uso dall'altro lato anche quanto appunto queste trasformazioni e questi cambiamenti influiscono poi nella pratica processuale nella possibilità appunto di rendere più facili ed efficienti i processi le indagini i rapporti anche fra le parti oppure nella possibilità di complicarne il testo che ha scritto Carlo dentro questo numero di cose spiegate bene appunto si riferisce a una serie di complicazioni burocratiche che uno si chiede se oggi possano essere semplificate forse anche lì diciamo te la metto lì e forse anche lì c'è un tema simile a quello del linguaggio che dicevo prima proprio appunto per la delicatezza del fatto che tutti i passaggi siano svolti che tutto sia fatto rigorosamente si possono semplificare e automatizzare delle procedure nel funzionamento delle indagini dei processi e della giustizia beh quella è la sfida io siccome non non abbiamo preparato niente e sapevo che sarei stato di fronte a 100 persone e non sapevo che cosa mi avrebbe chiesto Luca Soffri e non mi fido di Luca Soffri non è una domanda difficile ero andato no ma infatti sei stato bravissimo ma sono andato a leggermi la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario non tutta perché sono 200 e pulsa pagine ma mi ha colpito profondamente tutta la parte del PNR cioè dell'implementazione legata al digitale nella giustizia io mi occupo in realtà da ormai vent'anni di digitale cybercrime e tutto quello che è l'incrocio tra la rivoluzione digitale e il diritto dove ci sono state delle rivoluzioni notevoli e occupandomi come penalista ho anche visto cambiare proprio il sistema il sistema delle prove cioè noi oggi ormai abbiamo delegato alle macchine ogni aspetto della nostra vita e dunque è dalle macchine che estraiamo le informazioni nel mio pezzo io racconto che io non ho mai più interrogato un poliziotto che avesse fatto un pedinamento perché ormai abbiamo il GPS in tasca che è il nostro cellulare e quindi riescono a ricostruire dove siamo stati a posteriori non è neanche il caso che ci sia che però è molto diversa un pedinamento di un poliziotto rispetto a una traccia su una cartina estratta da un sistema o da un metadato delle celle e però questo è un fatto inevitabile nel senso che siamo noi stessi che non abbiamo più ricordo cioè se voi mi chiedeste dove ero due settimane fa a quest'ora io non ve lo saprei dire ma nel giro di cinque minuti aprirei il mio cellulare guarderei le mie agende vedrei che telefonate ho fatto farei un minimo di scrapping dei miei dispositivi e ricostruirei al minuto dove ero questa vita e tracce digitali che continuiamo ad andare ovviamente sono un arsenale straordinario per ricostruire e tutte le prove penali sono ormai come dire stravolte da tutta una serie di nuove tra cui le intercettazioni evidentemente che non sono legate al digitale anzi il digitale è in qualche modo messo in crisi nel senso che le intercettazioni di cui si parla molto sono nate con le tecnologie analogiche cioè quando la linea era una linea a commutazione per cui tu avevi la SIP la SIP si vede che sono vecchio insomma la TIM e infatti le intercettazioni sono molto semplici quelle telefoniche il problema è che noi oggi usiamo Whatsapp usiamo i sistemi criptati abbiamo tutto nel computer e quindi sono nate tutta una serie di nuove modalità di acquisizione della prova che però non sono regolate dal codice cioè sono lasciate all'interpretazione diventano tutte prove atipiche le telecamere che ci circondano eccetera e questo sta oggettivamente modificando il sistema probatorio e del oggi è rarissimo anche le testimonianze ci sono nei processi ma se non c'è una traccia digitale un'email una fotografia un post su facebook qualcosa che confermi è poco credibile il racconto della persona perché noi ricostruiamo le cose ormai sulla base dei dati che disseminiamo e questo è un grossissimo cambiamento ritorno però al PNR l'innovazione nella giustizia a me ha colpito cioè la progettualità di sistemi di intelligenza artificiale per le elaborazioni di tutta la giurisprudenza di tutte le sentenze di tutte sono modificheranno molto il giudizio senza arrivare a immaginare l'intelligenza artificiale che giudica il processo siamo molto distanti nessuno ci sta proprio pensando però già oggi noi più o meno consciamente nei tribunali acquisiamo prove che sono l'elaborazione di algoritmi e che sono algoritmi che né noi avvocati né credo i magistrati come dire governano vi faccio un esempio uno dei dati fondamentali si parla molto di intercettazioni ma badate anche lì non so perché questo governo dopo cento giorni ha iniziato a dire che farà una riforma della giustizia tenete conto che in questo momento siamo lì che naufraghiamo nella riforma cartabia che è entrata in vigore da un mese che è una riforma importante e che non abbiamo la più pallida idea dei risultati che darà cioè siamo lì che la studiamo tutti e già si parla di una nuova riforma è chiaro che è un ballon de sé nel senso che non hanno la più pallida idea non sanno neanche che c'è stata una riforma che è entrata in vigore e che stiamo cercando di attuare ma per tornare al problema appunto delle intercettazioni e delle intelligenze artificiali e di tutte queste grandi modifiche l'intercettazione in sé è un minus rispetto alla potenzialità che la datificazione delle nostre vite dà alle procure e alla giustizia il che può anche essere un bene ma deve essere regolata deve essere attentamente governata e invece ciò che accade se devo parlare di intelligenza artificiale di processo è che per esempio i metadati delle conversazioni che sono una delle sorveglianze di massa che l'Italia attua in maniera massiva nel senso che tutte le nostre connessioni sono tenute per sei anni e quindi questo permette di ricostruire a posteriori dove siamo stati con chi abbiamo parlato per sei anni vengono acquisite nei processi ma sono ingestibili da noi umani sono elaborate da degli algoritmi questi algoritmi creano le connessioni verificano estraggono l'informazione a seconda della domanda che si fa all'algoritmo algoritmi tutti chiusi cioè che noi avvocati non sappiamo come lavorino questi algoritmi sono algoritmi che usano le polizie giudiziari e poi ci presentano dei grafici meravigliosi in cui c'è la foto del nostro cliente con tutte le sue relazioni e noi avvocati li prendiamo come fossero verità rivelate come fossero delle sorte di atti di fede di questi e tant'è che io tutte le volte faccio l'esempio perché nel 1500 c'era un è nato un primo manuale di procedura penale di tale Ippolito Marsili che raccontava delle prove scientifiche il 500 il rinascimento insomma c'era e una delle prove scientifiche era per esempio l'ispectum feretri cioè tu se avevi il cadavere fresco facevi passare i sospettati davanti al cadavere e se il cadavere sanguinava quello davanti al cadavere era il colpevole e in quel di Albenga più di un imputato perse la testa per questa cosa e io mi immagino l'avvocato che avrà detto al cliente che devo fare gli ispetto un feretri ha passato ha sanguinato e lei è colpevole e mi sembra un po' di vedere gli avvocati che a fronte di questi grafici resi da questi meravigliosi algoritmi che dicono che dobbiamo fare questi sono i tuoi collegamenti sei associato a delinquere finito lì cioè non ci poniamo il problema però ma quest'algoritmo cosa fa quali dati immagazzina perché perché e quindi rischiamo di avere una sorta di fede nella tecnologia che invece in questi settori dovrebbe essere governata con grande attenzione non solo dai magistrati ma anche dagli avvocati e invece noi siamo un po' come l'avvocato ad Albenga che a fronte dell'altra prova che mi piaceva molto era il giudice umaco e frigide in cui tu immergevi il colpevole il supposto colpevole nell'acqua lustrale e se affondava era innocente se era galleggiava era colpevole perché l'acqua lustrale respinge gli impuri e quindi questo era una delle prove in allora scientifiche e quindi mi immagino aveva il difetto che se era innocente andavi a fondo però come ti difendevi di fronte a questa cosa qua e allora questo è uno dei problemi che abbiamo nella giustizia cioè la tecnologia gli algoritmi le intelligenze artificiali che poi non sono altro che algoritmi evoluti che estraggono poi dei grandi pattern saranno sempre più in utilizzo e sempre più misteriosi se non se non c'è un'attenzione questo è uno dei problemi che io vedo e nella relazione io sono rimasto un po' scioccato dal data lake giudiziario che vogliono creare in cui qualsiasi dato su qualsiasi soggetto compresi testimonie verranno elaborati da intelligenze artificiali che daranno dei risultati che influenzeranno il giudice non emetteranno mai la sentenza almeno per adesso non credo che le nostre intelligenze artificiali verranno mai intese in quello però potranno influenzare molto il giudizio e saranno una delle sfide dei prossimi anni dimmi se sbaglio ma un precedente diciamo rispetto a questo rischio recente ce l'abbiamo già con l'idea di infallibilità che abbiamo attribuito alle prove del DNA esatto e c'è un bel un bel pezzo su cose in cui si ha tutto si affronta tutto il problema del e di nuovo è inevitabile che la tecnologia modifichi completamente quelle che sono le strutture le convinzioni in questo momento credo che quello sia il tant'è che questo dibattito questa riforma della giustizia questo problema delle intercettazioni quando ormai il problema non è più tanto il target singolo dell'intercettazione ma è la massa di informazioni che è a disposizione della magistratura su cui bisognerà in qualche modo ragionare nel senso che perché poi ovviamente la gente può dire vabbè meglio così se non hai niente da nascondere se non hai fatto nulla da temere qual è il problema riusciremo a ridurre a zero la criminalità e questo è possibile se oggi si volesse l'evasione fiscale potrebbe essere ridotta a zero davvero in tempo zero nel senso che basta togliere un po' di contanti e mischiare un po' di banche dati e noi l'idraulico non possiamo pagarlo con i 200 euro vogliamo farlo dove lo poniamo il limite di che cosa stiamo parlando quando si dice l'abuso delle intercettazioni di che cosa stiamo parlando fino a lì si può fare fino alla no ma se io subisco un furto in casa mia e mi pigliano tutto è come se vorrei che intercettassero vorrei che intercettassero il mondo per pigliare il ladro però non è lì il problema il punto è che cosa perdiamo e che cosa acquisiamo che tipo di società vogliamo no guardate la storia delle prove giudiziarie nei procedimenti penali è una delle storie più belle per capire la civiltà e la democrazia di una nazione e lì su quei vincoli lì su quelle su quelle regole lì che si gioca anche la democrazia perché intorno diciamo alla quantità delle intercettazioni all'estensione delle intercettazioni non c'è soltanto una questione poi di quali sono le implicazioni nella violazione della privacy nella quantità di dati diciamo che consegniamo a strutture e poteri che come tutti diciamo i poteri nella storia non ci danno sempre garanzie totali di fiducia ma è anche tu mi racconti spesso nel poi creare una sproporzione fra accusa e difesa rispetto appunto all'arsenale di armi a disposizione è un problema di gestione cioè quello che immagino la gente non sappia quando si parla di intercettazioni è che se io intercetto per sei mesi dieci target e questo è una cosa che capita vuol dire che per dieci mesi ci sono dieci persone che ascoltano le conversazioni e che trascrivono quando si parla poi di deposito degli atti per la difesa vuol dire dieci mesi vuol dire ventiquattro ore al giorno per sette giorni su sette per quattro settimane per dieci volte per dieci target depositati alla difesa che cosa fa l'avvocato? si mette lì e passa sei mesi con le cuffie anche lui? ma no gli danno venti giorni per decidere cioè come le gestisci queste informazioni? sono decine di gigabyte che vengono depositate al difensore il quale ha ovviamente quelle che sono valide per l'accusa perché mentre il pubblico il pubblico ministero l'ufficiale di polizia sente non sta sentendo perché ma sta sentendo per cercare una sioma cioè quella colpevolezza ed estrae solo quelle e tutte le altre saranno irrilevanti saranno rilevanti e chi lo sa voi sapreste dire negli ultimi sei mesi che telefonate avete fatto io no eppure magari in quelle telefonate c'è qualcosa di fondamentale allora la gestione di questa massa di dati diventa davvero difficile quando si parla di eh ma facciamo il deposito e poi distruggiamo quelle inutilizzabili vi racconto un fatto banalissimo in un recente processo ascoltiamo tutte perché poi gli avvocati cosa fanno vanno ad ascoltare le intercettazioni che la pubblica accusa sostiene essere la prova del fatto di reato e ascoltiamo tutte queste cose a quel punto uno dovrebbe buttare via tutte le altre durante il processo ci accorgiamo si accorge la procura che una delle intercettazioni che tutti avevamo ascoltato aveva di sottofondo la voce di un altro coinputato cioè la trascrizione era avvenuto solo tra i due interlocutori ma c'era una persona che parlava mentre gli altri due parlavano quella frase che viene estratta dai periti diventa fondamentale per l'accusa nessuno se ne era accorta fino ad allora ma per capire perché quella persona era lì nessuno sapeva che quella persona era lì ma quell'intercettazione si dice a Cribbiola ma quando lui ha fatto la chiamata c'era anche quell'altra noi difendevamo la persona che compariva in quel momento allora dicevamo ma scusa ma tu eri lì si io ero lì ma non ero lì e ci racconta una storia che abbiamo potuto ricostruire essere vera e giustificare perché lui era lì prendetela per quel che è grazie al fatto che non avevamo buttato via tutte le altre registrazioni che erano del tutto irrilevanti ma sono diventate rilevanti sei mesi dopo a dibattimento per un fatto che quindi è impossibile quando loro dicono facciamo la selezione ma non non selezioniamo niente perché in questo caso ci si è salvati grazie al fatto che abbiamo potuto ricostruire tutti i movimenti grazie alle intercettazioni che erano del tutto irrilevanti sarebbero state distrutte se avessimo seguito la riforma Orlando e tant'è vero che la riforma Orlando non la segue nessuno cioè i gigabyte di roba rimangono sempre nei fascicoli non si fa mai nessun avvocato chiede la distruzione delle intercettazioni perché non sai mai che cosa può esserci in quelle e magari questo per darvi la complessità poi di gestire e poi certo che qualcosa scappa e scappa per forza perché una massa così di dati forse un giorno troveremo un'intelligenza artificiale in cui la difesa farà la domanda come a chat GTP3 trovami tutte le intercettazioni che salvano il mio cliente e lei si metterà lì e le troverà in 20 secondi io sei mesi di intercettazione non sono in grado di sentirle anche perché tendo a immaginare diciamo magari mi faccio degli esempi astratti ma tendo a immaginare che nel momento in cui l'accusa presenta una singola registrazione e intercettazione come dimostrazione di una cosa come prova di qualche cosa la smentita di quella cosa è potenzialmente in qualunque altro punto certo ma appunto se l'accusa sostiene che il tuo aver usato e sappiamo bene diciamo ci è stato raccontato che il tuo aver usato in determinato contesto un termine un'espressione una frase è una dimostrazione di qualcosa l'avvocato che voglia dimostrare che quella frase è stata usata altre cento volte in contesti diversi o riferita ad altre persone eccetera dovrà sentirsi tutto quanto no ma certo il caso che vi ho fatto prima il fatto che quella persona fosse lì in quel posto era stato visto come la prova che c'era un accordo grazie alle altre registrazioni si è capito che lei non aveva per nulla previsto di essere lì perché abbiamo potuto dimostrare a questo punto grazie alle intercettazioni che lei era tutta da un'altra parte ed era stata chiamata e non voleva andare ma è dovuta andare per altre ragioni quindi il fatto si è modificato completamente e poi c'è l'interpretazione io un post che avevo fatto sul post quello del vi ammazzo vi ammazzo io la uso ancora adesso io a un certo punto difesi un insegnante accusata di violenza nei confronti dei bambini che era una suorina tra l'astro ed era una persona dolcissima però effettivamente c'era questa registrazione in cui lei diceva vi ammazzo vi ammazzo ora questi bambinetti sentire vi ammazzo vi ammazzo era impressionante e lei mi disse le giuro avvocato io non ho mai detto vi ammazzo vi ammazzo diceva calmatevi e diceva nella registrazione alla fine il perito ha detto dice calmatevi ma io e tutta la polizia ha sentito vi ammazzo vi ammazzo a quel punto io ho scriso un pezzo un pezzo sul post perché ho preso sono andato in studio e ho dato la registrazione a dieci persone a cinque ho fatto leggere il capo di imputazione in cui era scritto che la suorina stava minacciava i bambini dicendo vi ammazzo vi ammazzo e tutti e cinque sentivano vi ammazzo vi ammazzo agli altri cinque ho detto sentimi e dimmi cosa dice tre dicevano vi ammazzo vi ammazzo due hanno detto calmatevi calmatevi è stranissimo io ce l'ho ancora quella registrazione come l'abito bianco e oro e l'abito infatti il posto mise poi l'abito bianco e oro sul questo io non so spiegarlo lì invece magari una macchina però certo che l'interpretazione ma tante volte l'ultimo processo devi dare a Roberto hanno perso cioè c'era un'intercettazione in cui la polizia aveva sentito devi dare a Roberto e invece il testo vero era hanno perso che sono due cose dette così eppure abbiamo dovuto fare una perizia per questa cosa qua voi immaginatemi su ore e ore di registrazione qual è la delicatezza di questo tipo di prove penso sempre a una cosa diciamo che naturalmente condivido ma la formulata con grande sintesi il vice direttore del post Francesco Costa che dice sempre ma quando dicono sono sereno ho fiducia nei magistrati nella giustizia ma come si fa ma non perché uno pensa diciamo che i magistrati siano in cattivo fede ma perché appunto le variabili e le arbitrarietà possibili sono tale per cui non si può essere sereni e tranquilli poi ci lasciamo volevo diciamo soltanto approfittare di voi per condividere un altro tema e un'altra storia molto attuale che in realtà non è dentro questo numero di cose spiegate bene riguarda più il lavoro giornalistico però ha una quantità di sovrapposizioni anche con le cose che abbiamo detto però che mi piace diciamo perché perché è un tema con cui al post abbiamo molto a che fare e ci sentiamo diciamo molto soli perché poi è complicato di condividere tutto questo tema che è quello del diritto all'ublio che ha molto a che fare diciamo con le innovazioni tecnologiche nel senso con l'esistenza del web fondamentalmente e che ha dentro una quantità di contraddizioni diciamo non risolvibili che secondo me sono molto esemplari di una cosa importantissima di cui essere consapevoli su quello che ha significato e significano questi cambiamenti di tempi cioè che ci sono alcune cose che sono così cambiate in seguito appunto alle innovazioni digitali che non sono più riconducibili a dei modelli e a degli standard di riferimento precedenti noi abbiamo umanamente immediatamente la tendenza tutte le volte che si configura un fatto e un contesto nuovo a ricondurlo a come si faceva prima bisogna stabilire chi viene pagato per i diritti di streaming di una canzone su spotify come si faceva prima con i dischi con la musica di pro dove dobbiamo ricondurlo a come era la radio a come erano i concerti e cerchiamo di fare delle elaborazioni di questo genere su principi e meccanismi di prima ma su moltissime cose diverse il punto è che un altro esempio straordinario in cui non si riesce appunto è quello dei social network sulla responsabilità dei social network di quello che viene pubblicato sui social network spessissimo la tendenza è stata e ancora per molti per quelli che non sono ancora andati a sbattere dentro le contraddizioni è stata ok sono degli editori e quindi come gli editori che abbiamo sempre conosciuto sono responsabili di quello che viene pubblicato oppure no non sono degli editori sono una cosa diversa trasparente siamo noi che decidiamo cosa ci pubblichiamo sopra e quindi non sono responsabili il punto è che non sono né degli editori né degli non editori sono delle cose che non esistevano prima non c'è nessun riferimento a quella cosa lì e in più l'ulteriore novità è che sono quasi dei monopoli in ciascuno ambito dei veri monopoli e questo complica ulteriormente i ragionamenti che si fanno il diritto all'oblio a sua volta sta dentro appunto queste cose che sono completamente cambiate perché le discussioni e i temi del diritto all'oblio ovvero del diritto diciamo della quota di diritto naturalmente da contestualizzare che le persone possono avere al fatto che alcune cose che le riguardano alcuni diciamo dati privati che li riguardino non continuino a essere permanentemente per l'eternità di accesso pubblico e visibilità pubblica è una cosa che ha solo a che fare con l'esistenza di internet perché prima l'accessibilità sui giornali di informazioni che vi riguardavano e che potevate non essere contenti che circolassero delle volte avendo delle responsabilità che però erano state assolutamente scontate per esempio altre volte non avendo nemmeno responsabilità l'esempio più semplice è venite indagati e accusati di qualcosa siete delle persone di qualche rilievo pubblico oppure la cosa è così importante che la notizia delle accuse nei vostri confronti finisce sui giornali finisce nei titoli finisce sulle prime pagine c'è una straordinaria visibilità di quella cosa e poi venite assolti e scagionati e non c'entravate niente prima di internet la vostra essere finita sulle prime pagine diventava inaccessibile perduto negli archivi e nelle meroteche dei giornali ecco adesso è invece voi googlate io googlo il vostro nome se vi è successo questo e può darsi benissimo che trovo prima dei risultati che riguardano la vostra essere stati accusati di cose anche molto gravi prima che il vostro essere stati prosciolti che delle volte nemmeno è in circolazione viene pubblicato come sapete appunto i cicli sui mezzi di informazione sono appunto in questo senso di una totale sproporzione fra le accuse e l'eventuale caduta delle accuse quindi appunto un tema è una questione che riguarda tantissimo questi tempi e il web e che apparentemente diciamo sembra avere e ha delle buone giustificazioni e delle buone ragioni ma che entra continuamente in conflitto col diritto di cronaca e il diritto di informazione delle persone quello che al post ormai succede con una frequenza notevole perché siamo cresciuti abbiamo una visibilità maggiore abbiamo una certa presenza e priorità sui motori di ricerca su google è di ricevere continuamente richieste da parte di persone che non hanno niente da sindacare da contestare rispetto a dei nostri passati articoli passati che possono essere di 10 anni fa come di 3 anni fa diciamo ci si appella al diritto all'oblio su durate e tempi anche abbastanza limitati e però in cui la richiesta è di eliminare quell'articolo oppure deindicizzare quell'articolo perché appunto in nome del diritto all'oblio allora le variabili e le sfumature sono tantissime vi terrei un'ora qui soltanto su questo proprio appunto per condividere queste riflessioni che dobbiamo fare in un sacco di casi riguardano il rilievo pubblico della persona in questione riguardano la dimensione e l'importanza della notizia riguardano il rilievo e il ruolo di quella persona all'interno di una notizia di un articolo perché può darsi che noi la richiesta la riceviamo da parte di un consigliere comunale di una provincia italiana che è stato accusato a un certo punto forse è stato anche condannato e ha scontato la sua pena e il cui nome stava dentro un articolo su diciamo la grande inchiesta nella città tal dei tali in cui a un certo punto c'era un elenco di 10 amministratori comunali che erano stati indagati allora dal punto di vista del diritto all'oblio quello è un caso che io accetterei tranquillamente non è più rilevante il nome di un consigliere comunale che nessuno ricorda più nessuno conosce eccetera dentro una storia più grossa la mia diciamo io faccio un po' fatica a una grossa resistenza da giornalista a rimuovere delle informazioni a cancellare delle informazioni dall'accesso pubblico di qualunque genere siano però ho anche rispetto naturalmente per le comprensibili esigenze personali di chi ha delle vite complicate dal fatto appunto che una ricerca su google possa ancora portare e poi diciamo come avete capito dalle cose detto prima tendo a pensare che le pene scontate siano pene scontate e non debbano rimanere i permanenti il diritto all'oblio in sostanza diciamo cerca di eliminare il rischio che alcune responsabilità abbiano una pena accessoria permanente cioè che voi siate per sempre conosciuti per quella cosa lì che avete fatto malgrado avviate scontato la pena figuriamoci se poi siete stati anche assolti e prosciolti però è un tema di grande complicazione e che sta dentro a sua volta in una contraddizione più generale che è che siamo una società che veniamo adesso dal giorno della memoria che promuove e sostiene con continuità la necessità di ricordare di ricordare di mantenere del rapporto col passato di non cancellare il passato eccetera eccetera e al tempo stesso però ha costruito tutte le riflessioni sulle cancellazioni e sul cancellare una parte del passato l'ultima cosa poi lascio concludere a Carlo anzi gli alzo una palla su una cosa su cui abbiamo spesso una divergenza l'ultima cosa se volete affascinante se non complicasse per noi tutto quanto della questione del diritto all'oblio è che diciamo quello che è stato finora codificato del diritto all'oblio che è molto poco cioè delle sentenze europee che poi diciamo possono essere molto interpretate e adesso di recente anche una norma italiana ma anche lì in cui si vede peraltro spesso la distanza dalla politica dalla comprensione della concretezza reale delle cose è che le richieste prevedono e implicano che i siti che hanno pubblicato notizie e informazioni rispetto appunto alle persone che presentano le richieste debbano deindicizzare quel contenuto cosa vuol dire deindicizzare inserire praticamente una riga di codice molto semplificata o un'istruzione molto semplificata che fa sì che Google non raccolga sui suoi motori di ricerca quella pagina e quell'articolo lì quindi voi non lo cancellate quella cosa lì rimane ma diventa abbastanza introvabile a meno appunto che uno non vada sugli archivi specifici del singolo sito la contraddizione logica diciamo su cui io delle volte mi rendo conto capricciosamente ma è un punto che cerco di tenere di tutto questo è che si rendono responsabili i singoli siti il post per esempio di quello che viene fatto con un loro contenuto su un altro sito qual è Google perché mi devo porre io la questione del fatto che Google abbia linkato il pezzo del post rivolgetevi a Google è Google che sta facendo quella cosa lì l'obiezione diciamo da avvocato del diavolo dell'angelo a questa è che Google è un sito così speciale di nuovo è così monopolistico è così rilevante per cui non possiamo trattarlo esattamente come voi non potreste chiedermi e dirmi ho trovato linkato questo pezzo del post sul sito del Corriere della Sera fate in modo che non ci sia più sul Corriere della Sera no chiedetelo al Corriere della Sera o mi pongo il problema io perché allora mi devo porre il problema nel caso di Google me lo devo porre per un'eccezionalità di Google però capite diciamo quali contraddizioni ci siano in tutto questo sul diritto all'oblio tornando ai carcerati è un altro aspetto a me è capitata questa cosa molto carina per niente ma insomma questo signore che è uscito dopo 20 anni di carcere ha fatto tutta una serie di rapine ma robette piccole ma insomma però gli avevano dato 20 anni e esce dal carcere e lui non aveva nessuna contezza degli smartphone perché 20 anni sono tanti e in carcere non c'è internet cioè è una roba figuriamoci il 41 bis toglie anche la possibilità di parlare ma non è che puoi andare a vedere le cose che noi facciamo da fuori dentro non si fa e siccome nella sua vicenda non era particolarmente ma aveva avuto la sfortuna che quando l'avevano arrestato avevano arrestato in realtà un sosia e quindi questa cosa era finita 20 anni prima su tutti i giornali lui nei 20 anni si era laureato aveva preso e uscito aveva trovato lavoro e si è accorto che se metteva il suo nome l'unica cosa che veniva fuori era decine di articoli delle sue rapine e lui aveva trovato lavoro come rappresentante commerciale diceva io non posso andare in giro come rappresentante commerciale devo farle togliere quelle robe lì tra l'altro se tu per 20 anni non sei sul web è chiaro che gli unici risultati sono quelli perché nella nostra vita normale noi popoliamo i nostri social e quindi nelle ricerche progressivamente le cose di 20 anni fa sono a pagina 6 e nessuno da google va oltre pagina 2 ma se tu non hai mai avuto una connessione internet e lì il diritto all'ovvio è un diritto fondamentale di vita cioè per poter rilavorare lui aveva scontato la sua pena aveva fatto lui doveva e poteva e non poteva più perché chiunque mettesse il suo nome veniva fuori rapinatore eccetera eccetera e abbiamo iniziato una lunghissima battaglia che adesso forse sarebbe un po' più facile ma insomma per dire quanto è fondamentale questa cosa e chiudo non perché voglia ritornare sull'intelligenza artificiale ma tutti questi dati finiscono anche nei processi e io tutte le volte penso che stiamo costruendo affidandoci a questi algoritmi un futuro basato sul passato cioè io ho riletto l'altro giorno sarà qualche anno fa i promessi sposi e pensavo ma fra Cristoforo non sarebbe mai potuto oggi diventare il santo che è diventato perché su internet il suo omicidio sarebbe sempre stato presente e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti